buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo con gli addominali e lo faremo stando sdraiati a pancia all'insù ci posizioniamo sul pavimento e stendiamo le braccia verso il soffitto unendo i palmi delle mani così da creare con le braccia un triangolo i gomiti sono belli stesi polsi pure le mani sono appiccicate l'una all'altra le braccia le inserisco tra le gambe e piano piano spingendo in avanti con la punta delle dita sollevo un pochino la testa e un po le spalle in questa maniera qui il mento rimane abbastanza vicino al petto arrotondo la schiena e con le braccia spingo leggermente in avanti tra le gambe faremo dieci ripetizioni poi ci andremo a riposare e faremo altre due serie quindi incominciamo stendo le braccia e 1 torno piano 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 e 2 3 spingo bene avanti con le braccia arrotondo bene la schiena 4 5 6 7 8 9 e 10 e ci rilassiamo un attimo se serve si sciolgono un po le gambe un po le braccia se magari per il mio collo fosse stato abbastanza impegnativo posso molto lentamente pesantemente rotolare un po la testa a destra e a sinistra se avessi necessità di più tempo metto in pausa e faccio ripartire il video appena mi sono rimesso in forze secondo giro stendo le braccia unisco i palmi delle mani inserisco le braccia tra le gambe e incomincio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 e 10 piano piano si torna giù si sciolgono braccia gambe ciò che ci serve sciogliere eventualmente il collo rotolando come abbiamo detto pesantemente la testa sul pavimento in maniera molto lenta sento bene il peso la testa al suolo così da rilassare la muscolatura del collo e noi partiamo per una terza ed ultima serie stendo le braccia unisco i palmi delle mani porto le braccia tra le gambe e riparto 1 2 3 4 5 6 5 8 9 e 10 e possiamo piano piano tornare a sedere chi avesse invece necessità può rimanere un po' a terra a sciogliere la muscolatura del collo rotolando la testa pesantemente lentamente a destra e a sinistra e noi invece ci diamo appuntamento a domani per una nuova lezione 5 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 11 12 12 13 12 13 13 13 14 15